Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Alcuni casi di true crime coinvolgono figure che dovrebbero proteggere e guidare i più giovani, ma invece sfruttano la loro posizione per scopi distruttivi. Queste storie ci mostrano il lato oscuro della fiducia e del potere, rivelando come il confine tra il dovere morale e il tradimento possa essere facilmente superato. Rebecca Jones nasce il 30 dicembre 1993 a Waterman Walk, nella città inglese di Salford, che dista circa un'ora da Liverpool. Suo padre si chiama Stuart, il nome di sua madre invece non è noto e si sa che Rebecca ha una sorella minore. Rebecca vive un'infanzia felice, ma si imbatte in alcune difficoltà quando inizia ad avere problemi di salute mentale. Soffre di ansia e, a scuola, è vittima di bullismo, condizione che la porta a sviluppare un disturbo alimentare. Rebecca, nonostante questa fase turbolenta, si diploma al liceo e si iscrive all'università. È una ragazza intelligente, brillante e si prospetta un futuro luminoso davanti a lei. La ragazza è anche fidanzata. Lei e il suo ragazzo, di cui il nome non è noto, hanno iniziato a uscire insieme quando entrambi avevano 15 anni, quindi ai tempi del liceo. Hanno poi deciso di frequentare la stessa università, ormai stanno insieme da 4 anni e sono inseparabili, convinti di essere anime gemelle. Vogliono concludere gli studi, poi sposarsi e formare una famiglia. In questo periodo, Rebecca fa una scelta importante per il suo percorso accademico. Siccome desidera diventare un'insegnante di matematica, si orienta verso un indirizzo di laurea specifico che l'abiliterà all'insegnamento. Riesce a ottenere la certificazione necessaria e trova lavoro in una scuola superiore a Manchester. Gli anni passano e pare che Rebecca conduca una vita perfetta. Sta insieme al suo ragazzo dal 9 anni e la coppia vive in un appartamento bello ed elegante a Manchester. Inoltre, Rebecca è davvero brava nel suo lavoro. Viene descritta come un'insegnante in gamba, amata dai suoi studenti. Intanto, i suoi genitori aprono un bar che riscuote molto successo e, nei weekend in cui è più libera, Rebecca li raggiunge al locale per dare una mano. Tuttavia, spesso quella della vita perfetta è un'illusione, condannata a sgretolarsi. E così avviene anche per Rebecca. Sì, fa il lavoro dei suoi sogni, ha una relazione sentimentale solida, dispone di ottime entrate e abita in una casa lussuosa. Eppure, la sua serenità va a rotoli. Innanzitutto, il rapporto tra lei e il suo fidanzato diventa tossico perché la coppia comincia a litigare ogni giorno. Stando a quanto viene riportato, Rebecca è fin troppo gelosa e insicura. Accusa il suo compagno di averla tradita in diverse occasioni. Di conseguenza, ora vuole sapere dove lui si trovi in ogni momento. Controlla spesso il suo telefono e, alla fine, il ragazzo si stufa di questa situazione e lascia Rebecca, che non la prende affatto bene. Lei stava con lui da quando aveva 15 anni. Questa è l'unica relazione sentimentale che ha avuto. E ora che è finita, crede che la sua vita non sarà più la stessa. La rottura amorosa fa sprofondare Rebecca in un periodo di depressione. Non vuole mai uscire di casa, fatica anche solo ad alzarsi dal letto ogni giorno, quindi non vorrebbe nemmeno andare al lavoro. Desidera passare le sue giornate senza fare nulla, per cui la vita adesso le appare davvero dura. È il 2020, scoppia la pandemia che ci ha recentemente coinvolti e Rebecca, come tutti, è costretta a casa. Tutte le scuole del Regno Unito vengono chiuse e l'insegnamento viene impartito online, quindi lei è ancora più isolata. Vive ormai sola nell'appartamento che condivideva con il suo ragazzo e non può vedere nessuno, nei membri della sua famiglia, nei colleghi di lavoro e i suoi allievi. Insomma, in un periodo già triste per lei, Rebecca non può interagire con nessuno ed è bloccata in una casa che la riporta con la mente a ricordi ormai perduti, a momenti sia felici che tristi, vissuti con il suo ex. Questa situazione prosegue per i successivi otto mesi, anche se il lockdown è intervallato da periodi di pausa, occasioni in cui Rebecca può tornare a insegnare in classe. Rebecca, quindi, rivede dal vivo i suoi studenti, ma poi, a distanza di un mese, viene relegata di nuovo a casa e questa situazione non l'aiuta affatto. La sua salute mentale sta peggiorando sempre di più. Arriviamo al settembre 2021, quando Rebecca ha 27 anni e torna in classe a tempo pieno. Questo la rende molto felice e quell'oprimente sensazione di solitudine inizia lentamente ad attenuarsi. Tuttavia, quando Rebecca riprende a insegnare matematica in presenza, nota alcuni cambiamenti perché riceve diversi commenti inappropriati dagli studenti del liceo. Lei è una giovane professoressa a contatto con molti adolescenti che la trovano attraente. Così, mentre Rebecca spiega le sue lezioni, alcuni alunni si spingono a dirle che è in forma, altri addirittura la definiscono sexy e le chiedono il numero di cellulare. Non so se Rebecca fosse destinataria di questi commenti espliciti anche prima del lockdown, è probabile che fosse già successo, ma ciò che cambia è la sua reazione a seguito di tali complimenti. Rebecca dovrebbe insegnare ai suoi alunni che quelle che le rivolgono sono molestie, perché così vanno definite. Lei invece si bea delle loro considerazioni inopportune e non fa assolutamente nulla per farle cessare. Non rimprovere i ragazzini, non comunica l'accaduto ai colleghi, perché quelle provocazioni la fanno sentire desiderata, speciale. Prima Rebecca aveva un fidanzato, mentre adesso è sola e reduce della vita isolata e segregata del lockdown. Quindi le attenzioni che le danno i suoi alunni sono una sorta di piccola consolazione per lei. Non lo interpreta come qualcosa di grave, ma in realtà lo rappresentano. È inquietante che Rebecca cerchi una convalida da ragazzini di 14-15 anni. Questi adolescenti dovrebbero sperimentare la sua saggezza e avere un freno, invece si verifica esattamente l'opposto. L'inadeguata dinamica si protrae per alcune settimane e la reputazione di Rebecca ne risente. È l'insegnante a cui piace flirtare con i minorenni e dato che non li riprende mai, sempre più giovani le rivolgono attenzioni fuori luogo. Gli studenti le affibiano il soprannome di Banderbecky, perché lei ha un bel fondoschiena. E la professoressa anche in questa occasione non li rimprovera, visto che adora tale nomignolo. E la situazione è peggiora, quindi Rebecca risponde ai commenti in modo civettuolo, alimentando i flirt con gli adolescenti. Parliamo nello specifico di uno studente di 15 anni, la cui identità non è mai stata rivelata allo scopo di proteggerlo. Quindi è conosciuto come ragazzo A. A frequenta il secondo anno di liceo e Rebecca è la sua insegnante di matematica dal 2021, periodo in cui è tornata a insegnare in presenza. A, con il suo atteggiamento disinvolto, è uno di quegli alunni che dice alla prof che lei è sexy ed è tra coloro che la chiamano Banderbecky. A flirta con Rebecca più di chiunque altro in quella classe e confessa ai suoi compagni che ha una cotta esagerata per lei. Racconta persino alla madre che la sua insegnante di matematica è bellissima e in gran forma. A, davanti a tutta la classe, insiste nel chiedere a Rebecca il numero di cellulare affinché possano prendere appuntamento per uscire. Indubbiamente il ragazzo non si comporta in modo appropriato e rispettoso, ma Rebecca è l'adulta della situazione. Se avesse voluto, probabilmente sarebbe riuscita a porre fine a queste insistenze. Essendo un'insegnante, si trova pure in una posizione di potere. Espetterebbe a lei fermarlo, ma nemmeno ci prova. Anzi, Rebecca non si rifiuta di flirtare con lui. L'11 ottobre 2021, a 5 settimane dall'inizio del primo trimestre, Rebecca lancia ad A una piccola sfida perché il ragazzo continua a chiederle il numero di telefono. Allora questa prof poco ligia al dovere scrive alla lavagna davanti a tutta la classe le prime 9 cifre del suo numero di cellulare su un totale di 11. Rebecca dice ad A che se fosse riuscito a indovinare le ultime due cifre mancanti, avrebbe potuto contattarla in qualsiasi momento. La sfida si presenta complicata perché ci sono centinaia di combinazioni numeriche possibili. Quindi, secondo voi, A cosa fa durante l'intera lezione di matematica? Annota le 9 cifre che adesso conosce e prova ogni combinazione, finché indovina la coppia di numeri corretta. Capisce che è quella giusta? Perché fa partire la chiamata e il cellulare di Rebecca squilla all'interno della sua borsa. Ora, A ha il numero personale dell'insegnante, una cosa che considero molto grave. Ma sapete, questo è esattamente ciò che voleva Rebecca. Altrimenti non avrebbe mai rivelato le prime 9 cifre del suo numero di cellulare davanti all'intera classe. Era la prima a sperare che lo studente avrebbe indovinato le cifre mancanti e questo lo reputo un atteggiamento da predatrice. Dopo la fine delle lezioni, più tardi, quella sera, A manda un messaggio a Rebecca e lei non ce la fa proprio a ignorarlo, quindi gli risponde assecondando uno scambio di battute. La conversazione fin da subito è sorretta da messaggi provocanti inviati da parte del ragazzo, che scrive alla professoressa «Allora mi ignorerai? Ho capito che non mi piace la matematica. Sono troppo distratto adesso». Rebecca sta al gioco e i due iniziano a sentirsi tutti i giorni. Cominciano a messaggiare tramite Snapchat, un'app su cui le foto e i messaggi scambiati in chat scompaiono nel giro di 24 ore. Di conseguenza non permane traccia di ciò che Rebecca dice al 15enne infatuato di lei. Però possiamo risalire ad altri messaggi che i due si inviano durante la settimana. Ali scrive «Sarà meglio che io sia l'unico ragazzo a cui stai mandando messaggi». E Rebecca ribatte «Ma certo, ci sei solo tu». Con il passare dei giorni, ovviamente, A spiffera a tutti i suoi amici che si sta scrivendo con la prof di matematica. Racconta che ha una specie di relazione con lei, ma questo non sembra preoccupare Rebecca. Ben presto, Ali chiede se possano vedersi dopo la scuola per un appuntamento. E Rebecca accetta con entusiasmo. Così, venerdì 15 ottobre 2021, cinque giorni dopo che A ha ottenuto il suo numero di cellulare, la docente e l'allievo si incontreranno per la prima volta fuori dal liceo, nello specifico al Trafford Center, un grande centro commerciale. Un posto molto affollato e quindi insolito per un primo appuntamento da vivere con riservatezza. A, dopo la scuola, mente ai propri genitori, dicendo che si recherà a casa di un amico e che rimarrà a dormire da lui. Quindi prepara una borsa con l'occorrente per passare la notte fuori, esce e si allontana un po' fino a raggiungere Rebecca, che lo aspetta in macchina. I due si dirigono in una pensione per animali, per prendere il cane di Rebecca. Poi raggiungono la casa dei genitori della professoressa e lo lasciano lì, di modo che non crei disturbo durante l'appuntamento galante. Prima di consegnare il cane ai propri genitori, Rebecca fa sdraiare A sui sedili posteriori, nascondendono alla loro vista. Poi l'insegnante e l'alunno vanno al centro commerciale. Il loro appuntamento viene ripreso integralmente dalle telecamere a circuito chiuso del grande magazzino. I due vengono inquadrati mentre entrano in vari negozi, poi vanno a mangiare. Dopodiché A, in un punto vendita di abbigliamento, si mostra interessata a una cintura. Allora Rebecca gliela compra. Ma non si tratta di un regalino. No, no. Perché quella cintura è firmata Gucci e costa ben 345 sterline. Quella della prof, a me, sembra l'ennesima tattica di adescamento, eseguita per manipolare e ottenere il controllo sul giovane A, assecondando i suoi desideri. Al termine di questa tappa, al centro commerciale, entrambi si dirigono verso l'appartamento di Rebecca. Durante il tragitto, A scherza con lei, dicendogli che lui non è abbastanza grande per guidare. E Rebecca ribatte dicendogli, oh, non dirlo. Ora, io credo che il sottotesto di questa affermazione sia non ricordarmi che sei così giovane. Verso le 20 di quella sera, la coppia viene di nuovo ripresa dalle telecamere a circuito chiuso, mentre entra nell'abitazione di Rebecca. Una volta dentro, il ragazzo si siede sul divano e le chiede, cosa vuoi fare adesso? Rebecca ribatte, non lo so. Tu cosa vuoi fare? Ma A non risponde. Piuttosto le domande, con quante persone sei andata a letto? Rebecca ridendo dice, questa è una domanda strana. Non così tante come nel tuo caso. Quella dell'insegnante è un'affermazione inadeguata, perché A, nonostante avesse fatto lo spavaldo con lei, è palesemente vergine. A questo punto lui si sente incredibilmente a disagio, è convinto che Rebecca stia per troncare la loro frequentazione, e che lei non voglia davvero avere un rapporto intimo con uno studente. Rebecca è un'adulta. Ad avanti a sé è un ragazzino che si è lasciato trascinare dall'infatuazione, senza valutare la situazione seriamente. Eppure, Rebecca abbandola della propria posizione di insegnante, una figura autoritaria, incoraggiando A a spingersi fin troppo oltre. Rebecca si comporta da predatrice, rivolge delle avanze esplicite al quindicenne, lo conduce in camera da letto e inizia a baciarlo. Poi lo spoglia e gli dice, nessuno deve scoprirlo. Infine, lo assalta intimamente. Nonostante A non la respinga, questo è un caso di violenza intima. Anche perché lui non ha ancora l'età per prestare il consenso, che si raggiunge a 16 anni. Inoltre, esistono leggi specifiche che proteggono i minori di 18 anni da parte di persone in posizione di autorità, proprio come gli insegnanti o i tutori. Questo atto di sopraffazione prosegue per circa 60 minuti, e A dichiarerà che si è sentito particolarmente a disagio per tutta la durata del rapporto intimo. Dopo circa un'ora A spiega a Rebecca che non riesce a raggiungere il piacere e la molestia termina. I due guardano la televisione assieme, ma qualche ora dopo Rebecca aggredisce di nuovo il ragazzino intimamente. In entrambi gli episodi la donna non usa precauzioni, ma in questo secondo atto A riesce a raggiungere il culmine del piacere. Dunque si preoccupa di aver messo incinta alla sua professoressa di matematica. Rebecca però lo tranquillizza subito dicendogli che non può rimanere incinta perché soffre della sindrome dell'ovaio policistico. Ora, io non so dirvi se Rebecca sia davvero affetta da questa condizione, ma sta comunque mentendo perché chi soffre di ovaio policistico può sì incontrare più difficoltà nel rimanere incinta a causa delle alterazioni nell'ovulazione, ma non significa che è impossibile. Se ci pensate, è pazzesco che l'adolescente sia l'unico a preoccuparsi di un'eventuale gravidanza indesiderata, mentre Rebecca, che è un'adulta, minimizza i rischi. La coppia trascorre la notte dormendo insieme e Rebecca la mattina dopo esce presto di casa per andare a fare un duplicato delle chiavi della sua abitazione. Le consegna poi a Dà dicendogli che può andare da lei quando vuole, a rincasa, dopodiché, più tardi, quello stesso giorno, torna al Trafford Center per fare shopping con sua madre, la quale nota il segno di un morso sul collo del figlio. Alla richiesta di spiegazioni, il ragazzo si comporta in modo sfuggente e si copre il collo. Sua madre allora lascia perdere pensando che il figlio si sia scambiato delle fusioni con una ragazza della sua età a casa dell'amico da cui ha dormito la sera prima. Quando è di nuovo a casa A manda un messaggio a Rebecca scrivendole che è preoccupato che sua madre possa scoprire cosa hanno fatto. Rebecca però si limita a rispondergli è meglio che non scopra che te l'ho fatto io. Durante il fine settimana A manda dei messaggi ad alcuni amici e racconta cosa è successo. Le voci sull'incontro scabroso si diffondono rapidamente e il lunedì mattina sono talmente fuori controllo che viene inviata una segnalazione anonima ai servizi di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza. La scuola viene così informata dell'accaduto e la preside avvisa la mamma del ragazzo la quale comprensibilmente si infuria. Accorre nell'istituto e suo figlio scoppia a piangere davanti a lei mentre ammette mi dispiace mamma è tutto vero. Subito dopo viene chiamata la polizia. Nel frattempo Rebecca si trova nella sua classe ed è in preda al panico perché anche lei ha percepito le voci che girano nella scuola. Prima di raccontarvi come è evoluta questa situazione però devo parlarvi di un'altra persona al centro del caso di oggi ovvero il ragazzo B. Durante questa frenetica mattinata B passa davanti alla classe di Rebecca e nota che la professoressa sta piangendo quindi entra nell'aula e le chiede se vada tutto bene. Rebecca spiega al ragazzo che sta disperatamente cercando di riportare il telefono alla configurazione di fabbrica ma non ci riesce allora lui le prende il cellulare dalle mani ed effettua il ripristino delle impostazioni di fabbrica al posto suo non può sapere di aver appena insabbiato un crimine. Rebecca ringrazia B per l'aiuto prezioso e gli dice che si farà perdonare ma a seguito di questo incontro la polizia sopraggiunge nell'aula e arresta Rebecca. A. è stato sottoposto a un interrogatorio e ha raccontato tutto ai detective che ora vogliono esaminare il cellulare di Rebecca alla ricerca di prove tuttavia non riescono a trovare nulla di valido perché adesso il telefono dell'insegnante presenta le impostazioni di fabbrica quindi ogni traccia del crimine è stata cancellata. Rebecca viene immediatamente sospesa dal lavoro in attesa di ulteriori indagini e dovrà presentarsi in tribunale per essere accusata formalmente. Si dichiara non colpevole e afferma che si tratta soltanto di una bugia di una storia inventata da A. presto la prof viene rilasciata su cauzione in vista di un'investigazione più approfondita. C'è però una condizione legata alla sua cauzione ovvero Rebecca è impedito di avere contatti non supervisionati con persone di età inferiore a 18 anni. Dunque la vita di Rebecca crolla a pezzi è ancora sospesa dal lavoro e le voci critiche sul suo conto vengono alimentate. Al momento però per l'opinione pubblica sono più che altro pettegolezzi quasi nessuno sa cosa fosse successo esattamente e l'identità della vittima non può essere rivelata infatti rimarrà sempre un segreto ma in ogni caso Rebecca ormai è marchiata a scuola non può prendere l'incarico e si trova costretta a lavorare a tempo pieno al bar dei suoi genitori. Se attribuissimo un po' di assennatezza a questa donna potremmo dedurre che almeno adesso non oserebbe mai e poi mai adescare di nuovo un ragazzino ma sbaglieremmo a pensarla così perché Rebecca è un'autentica predatrice e risulta pure piuttosto esperta infatti non le basta di aver circuito e aggredito intimamente A vuole di più. Arriviamo così al novembre 2021 sono passate poche settimane da quando Rebecca è stata rilasciata su cauzione e adesso viene contattata da B lo studente liceale che ha notato Rebecca in un momento di intensa crisi e l'ha aiutata a ripristinare le impostazioni di fabbrica sul telefono anche B ha solo 15 anni e seguiva le lezioni di matematica di Rebecca infatti riesce a contattarla perché era presente quando l'insegnante aveva riportato quasi integralmente il proprio numero di cellulare sulla lavagna della classe B aggiunge Rebecca su Snapchat ma come ricorderete a lei non è consentito di avere contatti con i minorenni si tratta di una condizione che ha dovuto accettare per ottenere il rilascio su cauzione eppure la ignora Rebecca dovrebbe rifiutare la richiesta non permettere a B di aggiungerla su Snapchat e invece comincia a scambiarsi dei messaggi con lui B chiede a Rebecca come va e lei gli scrive che non sta molto bene da questo momento B e Rebecca parlano ogni giorno e la donna vira la conversazione su argomenti allusivi e provocazioni B è la seconda vittima di Rebecca in meno di un mese lei ha 27 anni e sta di nuovo manipolando un ragazzino di 15 dopo essere stata già arrestata per un reato simile ancora più grave le conversazioni tra Rebecca e B diventano presto inappropriate ad esempio B le chiede di fotografarsi il seno per poi farglielo vedere e Rebecca gli risponde non stasera lasciando intendere che vi è la possibilità che questo accade in un'altra occasione non sono emerse prove che Rebecca abbia mandato a B le foto in questione ma è invece noto che gli ha inviato uno scatto di se stessa in intimo più precisamente in perizoma mettendo quindi in evidenza il fondo schiena pochi giorni dopo Rebecca invita B nel suo appartamento e lui accetta di andarci quando lo studente arriva a casa della professoressa si siede sul divano e lei si posiziona subito a cavalcioni su di lui i due si baciano e quando B chiede a Rebecca si possono consumare un rapporto intimo lei risponde di no almeno al momento perché devono aspettare che lui compia 16 anni passano alcune settimane B compie effettivamente 16 anni trascorre un'altra settimana ancora e dopo di che Rebecca invita di nuovo l'alunno a casa propria B mente a sua madre dicendole che si assenterà per una partita di football del Manchester United ma in realtà vende il biglietto per il match e si reca nell'appartamento di Rebecca appena il ragazzo la raggiunge i due iniziano a baciarsi ma lei gli dice che non è così sicura di andare oltre forse bisognerebbe aspettare che B compia 18 anni B però è determinato ad avere un rapporto intimo con Rebecca la quale nemmeno prova a fargli cambiare idea anzi porta B nella sua camera da letto e attua la sua sopraffazione anche se B adesso avrebbe l'età del consenso siccome Rebecca è ancora un insegnante nonostante la sospensione l'età del consenso si considera raggiunta a 18 anni come detto in presenza di una figura in posizione di autorità abbandonante c'è uno slittamento del limite quindi quello che Rebecca sta facendo continua a essere illegale e credo proprio che lei lo sapesse ha adescato un altro 15enne e ci è andata a letto quando lui aveva comunque ancora 16 anni mentre la soglia del consenso in casi come il suo corrisponde a 18 anni poi dopo questo primo incontro Rebecca vuole vedere B regolarmente lo invita di continuo nel suo appartamento e i due consumano dei rapporti intimi più e più volte intanto B continua a frequentare il liceo mentre Rebecca è sempre fuori dalla prigione su cauzione e deve ancora apparire in tribunale per avere abbandonata arriviamo a giugno del 2022 la relazione con B ormai va avanti da 5 mesi e il ragazzo ha appena concluso l'anno scolastico adesso la storia tra l'allievo e la docente diventa particolarmente tossica un po' come la relazione che Rebecca condivideva con il suo fidanzato di lunga data quando il rapporto era entrato in crisi Rebecca diventa possessiva e controllante nei confronti di B vuole sapere in ogni momento dove lui vada cosa stia facendo con chi esca e quanto tempo rimarrà fuori la chiama più volte al giorno oppure sull'app per le videochiamate FaceTime per avere dimostrazione che lui dica la verità ad esempio B deve provare a Rebecca di non essere in compagnia di altre ragazze ogni volta che B va a casa di Rebecca lei gli controlla il cellulare e scoppia piangere senza motivo accusandolo di tradirla gli chiede di rivelarle tutte le password dei suoi account sui social media compresa quella di Snapchat in modo da monitorare la posizione del ragazzo in ogni momento in pratica lo sta stalkerando e indovinate un po' B è sempre in compagnia dei suoi amici Rebecca non lo sorprende mai e dico mai con qualche altra ragazza anche se lei sta commettendo un illecito non fa niente per nasconderlo mentre B cerca di mantenere segreta la loro relazione immorale alla fine il ragazzo sommerso dalle chiamate di questa donna e dalle domande curiose degli amici confessa ciò che sta succedendo la storia prosegue in questo modo per alcuni mesi Rebecca e B continuano a vedersi hanno rapporti intimi ogni volta e lei considera lui come una sua proprietà visto il modo in cui lo tratta trascorre addirittura un anno ma a questo punto B si stufa dell'atteggiamento ossessivo di Rebecca non vuole più stare con lei la loro storia è diventata incredibilmente tossica lui è infelice e ora vede Rebecca per ciò che lei è veramente ormai litigano tutti i giorni finché B le sfiega che ha bisogno di fare un passo indietro lei dice sei strana sei una predatrice dovresti trovare qualcuno della tua età insomma B si è finalmente reso conto di cosa ha vissuto in questo anno ribadisce a Rebecca che non vuole più stare insieme a lei ma ogni volta la donna riesce a manipolarlo a convincerlo a restarle accanto arrivando addirittura a minacciare il suo figlio in un'occasione Rebecca gli scrive questa lettera ciao tesoro so che sei in difficoltà in questo momento siamo entrambi molto stressati ma spero davvero che possiamo trovare una soluzione non credo tu capisca quanto ti amo sei davvero tutto il mio mondo e non hai idea di quanto perfetto penso tu sia sei tutto ciò che ho sempre sognato è per questo che passo ogni secondo che posso con te queste sono parole dall'intento manipolatore B vuole lasciare Rebecca ma lei continua a minacciare di togliersi la vita quindi lui si sente completamente intrappolato in questa relazione segreta e inopportuna i suoi genitori non ne sanno nulla e B ha smesso di parlare di Rebecca ai suoi amici il rapporto tra B e Rebecca è comunque destinato a raffreddarsi i due si vedono ancora ogni tanto ma non con lo stesso trasporto di prima arriviamo al marzo 2023 e vi ricordo che questa relazione è iniziata nel novembre 2021 quindi pur tra alti e bassi dura da parecchio tempo Rebecca a questo punto ricontatta B e gli chiede un appuntamento lui accetta così una sera si reca nell'appartamento della donna dove il pavimento è cosparso da petali di rosa Rebecca spiega al ragazzo che deve fare una sorta di caccia al tesoro per scoprire cosa lei ha bisogno di dirgli ha lasciato dei bigliettini in giro per casa B li recupera e legge ad esempio su uno di questi c'è scritto vai dove ho bruciato la pizza che ho cucinato oppure vai dove teniamo tutte le leccornie e infine l'ultimo biglietto recita vai dove dovremmo essere adesso se volessimo farci le coccole dunque B si dirige nella camera da letto e trova qualcosa che lo sconvolge a dir poco una piccola tuttina da neonato adagiata sul materasso su cui c'è scritto amo mio papà fino alla luna e ritorno se vi dicessi che B è scioccato da questa rivelazione sarebbe un effemismo perché Rebecca aveva detto anche a lui come a D'A che non poteva rimanere incinta a causa dell'ovaio policistico di conseguenza la coppia non aveva mai usato alcuna protezione durante i rapporti intimi come detto però non è impossibile rimanere incinta se si è affetti da questa sindrome è solo più difficile infatti ora Rebecca ha una grossa sorpresa nella pancia e questo risvolto per B in realtà è la goccia che fa traboccare il vaso è riuscito tutto sommato a nascondere la relazione con la professoressa per 18 mesi ma sa che non potrà tenere segreto un bambino suo figlio il tempo che gli resta per sistemare la situazione è limitato entro 7 mesi il bimbo nascerà e B sa che deve raccontare tutto ai suoi genitori così torna a casa e si confida con la madre il padre i quali telefonano immediatamente e giustamente alla polizia questo è il momento in cui la disgustosa verità su tutto quello che ha commesso Rebecca viene a Galda il ragazzino confessa ogni dettaglio alla polizia la quale si dirige nell'appartamento di Rebecca e la arresta di nuovo il video dell'arresto è disponibile online e guardandolo ho avuto l'impressione che Rebecca cercasse di comportarsi come una vittima un atteggiamento che ovviamente disprezzo profondamente visto che in questo caso le uniche vittime sono i due ragazzini che lei ha adescato e manipolato eppure Rebecca continua a restare fuori dal carcere pagando la cauzione dunque mi chiedo quanto tempo ci voglia per condurre un'indagine esaustiva su questa persona Rebecca è rimasta a piede libero per ben 18 mesi un lungo periodo di tempo che ha interamente trascorso riuscendo ad abusi di un'altra vittima poi Rebecca viene ritenuta in custodi in attesa del processo dal giugno del 2023 al gennaio del 2024 mese in cui partorisce in prigione una bambina nata dal rapporto con B la piccola viene immediatamente affidata ai servizi di protezione dell'infanzia e Rebecca è sconvolta perché le viene permesso di vederla solo poche volte alla settimana e per poche ore infine la custodia della neonata viene affidata a B e ai suoi genitori pronte ad allevarla lontano da Rebecca nel maggio 2024 inizia il processo e Rebecca si aggiudica 6 capi d'accusa per rapporti intimi con un minore durante le varie udienze l'imputata prova a comportarsi da vittima mostrando sempre una cuffietta rosa per neonata infilata nella cintura dei pantaloni vuole palesemente impietosire i giurati peccato per lei che nessuno di loro abbia compassione nei suoi confronti è vero Rebecca ha dovuto rinunciare coattivamente a sua figlia ma questo perché aveva avuto intimamente di un ragazzino quella bambina di certo starà meglio senza di lei quando Rebecca sale sul banco dei testimoni parla con voce infantile e forzata si finge innocente davanti a tutti e racconta di aver commesso un grave errore durante un periodo di depressione e due ragazzi abusiati A e B testimoniano entrambi a processo tutti e due spiegano di essere stati manipolati a fondo da Rebecca nonostante al tempo non se ne fossero accorti infatti questa consapevolezza è arrivata quando sono cresciuti un po' B è davvero distrutto per quello che gli è successo ha sofferto molto ha perso 18 mesi della sua giovinezza a causa di Rebecca è rimasto traumatizzato dal comportamento manipolatorio e controllante di questa donna e lo angoscia sapere che rimarrà legato a lei per il resto della sua vita visto che hanno una figlia in comune dopo l'esposizione delle testimonianze di A e B l'accusa dialoga con la giuria e le propone di immaginare un insegnante maschio di 28 anni di nome Robert questo Robert riceve commenti provocanti da alcune delle sue studentesse e presto cede intrattiene dei rapporti intimi con due allieve 15 anni una la mette addirittura incinta come si regolerebbero i giurati se il colpevole fosse un uomo la strategia di fare leva sull'inversione di genere si rivela efficace Rebecca viene giudicata colpevole di tutte le accuse quindi ora dovrebbe essere condannata giusto? beh no perché ancora una volta viene rilasciata su cauzione il 4 luglio 2024 Rebecca torna in tribunale per la pronuncia della sentenza e viene condannata a una pena di 6 anni e 6 mesi le viene inoltre concesso il diritto di far visita alla sua bambina ogni settimana e potrà ottenere la libertà vigilata dopo 6 anni quando ne avrà 34 nei confronti si dia che di B viene emesso un ordine restrittivo quindi Rebecca non potrà più contattarli l'imputata verrà inserita nel registro degli autori di reati intimi a vita dunque quando uscirà di prigione non le sarà permesso di lavorare a contatto con i minori arriviamo alle conclusioni di questa vicenda ho scelto di parlarvene perché dalle notizie che emergono online ho notato che si registra un aumento dei casi in cui la predatrice è una donna che riveste una posizione di potere anche se non è una dinamica di cui si sente parlare spesso uno degli aspetti più assurdi della vicenda secondo me è che Rebecca era riuscita ad abudire di una seconda vittima B mentre si trovava fuori dalla prigione su cauzione per i reati commessi contro A gli stessi reati per giunta insomma se lei l'ha fatta franca per ben 18 mesi significa che non erano stati effettuati degli opportuni controlli e reputo che ciò sia davvero grave metto anche in conto che il fin dall'inizio il piano di Rebecca fosse quello di rimanere incinta secondo me il che motiverebbe perché lei aveva ripetutamente incoraggiato quei rapporti non protetti insomma di certo Rebecca aveva sostenuto diverse visite ginecologiche quindi direi che mentiva deliberatamente mentre diceva alle sue prede di essere sterile inoltre quando durante il processo ha spiegato di aver commesso un grave errore a causa della depressione mi ha creato un forte senso di disagio in realtà andare a letto con un ragazzino per 18 mesi cara mia Rebecca non può essere semplicemente considerato uno sbaglio stiamo parlando di abusi su minori reiterati poi a proposito della condanna voglio farvi una domanda pensate che un uomo autore dello stesso reato avrebbe ricevuto una pena così indulgente vi dirò io non credo proprio sono convinta che Rebecca se la sia cavata tutto sommato con poco in conclusione spero che presto A B e la bambina che Rebecca ha messo al mondo stiano bene mi auguro che possano riprendersi dai traumi che hanno subito a causa di questa donna manipolatrice il caso di Rebecca Jones ci ricorda tragicamente come la vulnerabilità se mal gestita possa condurre ad azioni distruttive che segnano profondamente la vita delle persone coinvolte in una posizione di autorità e responsabilità Rebecca ha infranto la fiducia riposta in lei trasformando il suo ruolo di insegnante in una rete oscura per le sue acerbe vittime questa storia ci spinge a riflettere sull'importanza di vigilare e di proteggere i più giovani affinché chi ha il compito di educarli non avrebbe mai di tale potere sono curiosa di sapere cosa ne pensate del caso di oggi quindi fatemi sapere i vostri pensieri e le vostre opinioni qui sotto nei commenti fatemi sapere se conoscevate questo caso perché sono sempre molto curiosa e soprattutto ditemi che cosa avete provato mentre ve lo raccontavo sono molto curiosa di sapere come vi siete sentiti io devo dire che per tutta la scrittura di questo video più la scrittura che poi la registrazione mi sono sentita a disagio molto a disagio profondamente a disagio ovviamente sono qui in attesa di leggere i vostri commenti mi raccomando partecipate numerosi perché sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti